Selvaggia Lucarelli blogger e giornalista italiana se non erro avrebbe pubblicato di decente un post nel suo profilo ufficiale di instagram andando a difendere blanco il cantante che di decente avrebbe distrutto il palco del festival di Sanremo 2023 infatti vi ricordo che avrebbe dato cacci e alcune rose rosse sarebbero letteralmente volate via la Lucarelli in pratica avrebbe scritto fischiato come me abballando con le stelle voi dopo quel monologo cosa avreste fatto insomma sembra essere una selvaggia Lucarelli che prende le ripeto difese di blanco senza se e senza ma senza aver avuto problemi di sorta la Lucarelli sta seguendo molto bene questo Sanremo da come si legge anche sul web sarebbe piaciuto sarebbe piaciuto anche quindi quando la presenza di blanco ha colpito tutti nel senso che ha dato poi questi calci alle rose e avrebbe distrutto ripeto il palco dell'ariston e ha preso ripeto di nuovo le sue difese quindi a difesa a spada tratta a blanco questo giovane ragazzo ventenne di donato che di recente se la sarebbe presa perché non avrebbe sentito la sua voce da narratore italiano di youtube Italia è tutto iscrivetevi commentate questo video non vuoi vedere la parisi di blanco né di selvaggio Lucarelli ma solo informare sto ciao a tutti grazie 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 grazie